Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io in questo video avrò uno dei miei pacchetti, un pacchetto da 7500 perché da poco sono usciti i nuovi IF, cioè la scuola della settimana. Vi voglio far vedere prima la mia rosa, come vedete apposta Joe Buffon. I due difensori centrali sono Albiol e Vidic, terzino sinistro Eura della Juve, terzino destro mi sembra che si chiama Gazzola, poi c'è Pirlo, come c'è una coppista centrale, di lì qua dove stava in signe non c'avevo un cc della squadra italiana quindi ho messo in signe, e qui come coq ho messo Kayakon. L'attaccante centrale è Wayne, sinistro Pedro e destro i tube, poi c'è Hilton, IF, Arda, Turan, Garai, Levesi, Matic, Gervinio, Spodowski, Shaqiri, Xavi e Hamsik. Hamsik fa la sua situazione quando Kayakon non è in forma. Vabbè, passiamo subito ad aprire il nostro pacchetto, 7500. Vedete se ci sono usciti qualche, no, nessun pacchetto nuovo, perché non posso comprare neanche niente. Oh, qui c'è Wayne, il mio giocatore preferito. Forza, Wayne, porta fortuna, fammi uscire adesso. Messi, record breaker. Lo apriamo, ok. Chi uscirà? Io non guardo. A mio 5 mi giro 1, 2, 3, 4, 5. Ma che merda di pacchetto è questo? Io volevo un IF e mi fate trovare montari. Questo sta incazzato. De Micheli se almeno ride. Quanto... Questo è un giocatore triste, però ride. C'è 36 di velocità, 41 di tiro. 2 cose di argento. No, un fa... Guarda, me ne ho trattato anche i miei crediti. Speriamo che vuole qualcosa a sto scemo. Sto 150. Sto a tutti i giocatori 150. Non vi preoccupate, ragazzi, perché sta per arrivare il super spacchettamento. Io penso o il 23 dicembre o il 24. Oppure in questi giorni. Però penso prima di 3 e 24, perché il 22 dicembre è il mio compleanno. Tanti soldi, big money e quindi io farò tanti soldi. Io li metterò sulla postpay. Mi metterò... Voglio mettere 40 euro. 20 euro per 2200 FIFA Point. E 200 per altri 20 euro io farò l'abbonamento se asom ticket. Tricket, non mi sembra, non ricordo. Che appunto ti metterà, cioè mi darà 24 pacchetti settimanali. Quindi facendo la media 24 per 4 settimane saranno 96 pacchetti al mese. Quindi io farò video ogni settimana per 24 pacchetti. 24 dovrebbe... O i 23, quando andrò a caricare, dovrebbero... Io avrò o 24 pacchetti o... O se noi arriviamo a meno a 10 like, io invece di aprirne... Allora, se il video arriva senza like, deve arrivare a meno a 5 like. Se no, io faccio solo 6 pacchetti. Se arriva a 10, ne apro 12. Se arriva a 15, io ne apro tutti. Quindi, 15, a meno dovete arrivare a 15 like. E io avrò tutti i pacchetti che mi danno sia FIFA Point sia per i Raysa on Ticket. Quindi, ci sarebbe un bel spacchettamento tra... Speriamo che ci uscira Noia, Diff. Mi sembra che è uscito nella squadra di settimana. Vabbè, se no, non Noia, Deghea. Dico Costa. Messi, Record Breaker. Vabbè, poi rivedremo lì. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Un pacchetto di FIFA. Noi ci vediamo nel prossimo video e alla prossima.